Buongiorno, anche oggi continuiamo con gli oggetti di uso comune che però sono sempre oggetti di design ho scelto uno sgabello da giardino quindi un elemento un'altra volta molto semplice e di facile utilizzo come puoi vedere è una struttura in legno con questa intrecciatura in fibre sintetiche che riproducono il rattan come andiamo a vedere abbiamo diversi modelli possono essere usati anche per l'interno a seconda ovviamente dell'arredo che uno ha abbiamo un'altra tipologia il classico sgabello da bar questo è un altro però è alla seduta imbottita questo invece riproduce un po' le panche oppure i tavoli da giardino con questi listelli questo è molto simile ai precedenti quindi questo è un altro sgabello ancora molto basso diciamo e questo è un altro imbottito e questo è un altro tipo di sgabello da giardino come puoi vedere sono elementi molto semplici in materiale naturale perché viene usato prevalentemente in legno e sono poco ingombranti penso leggeri adesso io li ho ricavati dal catalogo quindi sono anche facili da realizzare però sono sempre oggetti di design di studio ecco come qualsiasi oggetto di uso comune qualsiasi oggetto che abbiamo in casa anche più banale che sembra non essere stato studiato pensato in realtà come abbiamo già detto in altre lezioni sono oggetti invece di design dietro i quali c'è uno studio c'è un progetto non nascono a caso tanto per ecco con questo io ho terminato questa breve lezione ti saluto e ti auguro buona giornata ciao